L'ideatore dell'enciclopedia Treccani, il filosofo Giovanni Gentile, venne ucciso il 15 aprile 1944. Da subito nella resistenza ci fu un dibattito, se fosse lecito o meno uccidere un uomo di idee come Gentile. Prevalse comunque l'idea che bisognava dare un'ennesima lezione al fascismo e all'uomo che nel 1923 ne aveva incarnato la sostanza asserendo che proprio il movimento fascista era il coronamento del risorgimento italiano. Ecco, a distanza di tanti anni il dibattito su quell'uccisione, su quella morte è ancora attuale perché ci si chiede se un uomo debba essere comunque ucciso per le proprie idee. Certamente rimangono importanti e significative le parole del giornalista Indro Montanelli. Montanelli disse e dichiarò più avanti che lui seppe dell'uccisione di Gentile quando era nelle carceri della Gestapo da molti mesi ed era prigioniero. Ecco, Montanelli dice io in quel momento, pur in mano ai tedeschi, pensavo di essere dalla parte giusta, cioè dalla parte dei resistenti. Quel giorno mi chiesi se invece io non fossi dalla parte degli aguzzini. Ecco, queste sono parole che fanno riflettere anche oggi dove in tante parti del mondo persone vengono uccise ancora per le proprie idee, giuste o sbagliate che siano. Grazie. Grazie.